Sono stati i fratelli Alfonso e Antonio Veneroso, i protagonisti dell'iniziativa culturale che si è svolta ieri sera al Museo del Mare di Sciacca all'interno del complesso monumentale Fazzello. Mare, viaggio di poesia, narrazione e musica attraverso il Mediterraneo, questo è il titolo della manifestazione organizzata dall'Associazione Amici del Museo del Mare, dalla Lega Navale, dal Comune e dalla Soprintendenza del Mare. Una performance teatrale finalizzata alla diffusione e alla conoscenza dei reperti archeologici recuperati nel mare di Sciacca e custoditi all'interno del museo. Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Francesca Valenti che ha parlato di mare come fonte di vita, storia, cultura e conoscenza. Il mare è sicuramente vita, il mare è vita sotto tutti i punti di vista, perché il mare è vita preziosa come ecosistema, il mare è un simbolo prezioso per tutto quello che è proprio della dimensione più prettamente artistica, il mare è risorsa preziosa come fonte anche dal punto di vista economico e produttivo. E così credo sia stato sempre vissuto, perché sempre la storia si è intrecciata al mare, visto sempre come ricchezza fondamentale, anche non solo per gli scambi commerciali, ma anche per tutta la capacità relazionale che le civiltà vicine al mare hanno avuto, proprio per la loro connotazione geografica e tutta la storia poi si è anche intersecata con quella che è vera e propria arte, arte sotto tutti i punti di vista, sia l'arte più prettamente figurativa, perché il mare viene raffigurato sin dall'inizio come fonte di sostentamento, ma il mare diventa anche simbolo, addirittura divinità, il mare stesso è un dio, ora benevolo, ora invece molto cattivo con gli uomini. Il mare è raccontato attraverso una performance teatrale tra prosa e poesia dell'attore Alfonso Veneroso, accompagnato alla chitarra dal maestro Antonio Veneroso. Che facciamo picciotti? Ne muddamo? Io decissi allo porto da appoggiare, parlate, che facciamo? Customare, padre Filippo, è meglio che appoggiamo, muddamoni, chi ne accompagna a Dio? E così mi è passi convincito, abbasciamo la vela e ne guardamo senza dire ne manco una parola. Io pensavo alla casa, alla scuola, a dire così caspesso, di sprizzamo, una tagliata la pompa, se si attuppa, lo bastimento fu muddato un pupa e miniva pupa di miei padri, che tenia lo timone in tale mani, giocavano con l'unne le gabbiane, mentre io mi ricordava di miei padri, che la savi senza una parola, quando ci risse un maio più a scuola, figlio, mettete a basso, scendi vento e abbozza lo mare più da fuori, che ti paria che era divertimento? Ora t'adduni, zoccoveni ora, laureato e ringraziato ogni momento, lo santissimo e divino sacramento! Obiettivo della serata, valorizzare il Museo del Mare di Sciacca, trasferito nei mesi scorsi al complesso Fazello, al termine di un lungo e delicato lavoro di recupero dei reperti dalla struttura di Contrada Muciare, seriamente danneggiata a seguito del nubifraggio del 25 novembre. L'occasione è servita anche per annunciare che l'ex colonia marina non sarà abbandonata. Il Museo del Mare in centro storico consente sicuramente una maggiore fruizione. L'idea è quella di realizzare nella struttura di Contrada Muciare un laboratorio di restauro. Do la notizia che sono stati ripresi i lavori da Rennes. È stata già trazzata la strada che dalla confluenza del viale delle Terme porta direttamente alla colonia, si tratta di 450 metri pedonabili, e insomma è un ulteriore passo, lì dovremmo noi mettere il laboratorio di restauro, fra le tante cose. Da stronti le cose, i reperti della vecchia marina sono tutte lì. Siamo riusciti in questo obiettivo che è stato veramente eccezionale. Sciacca adesso ha una struttura veramente di grande pregio, che ha avuto un successo anche. E quindi cerchiamo di continuare su questa strada, di ampliare questo museo, recuperare anche le Muciare, recuperare la Chiesa dello Spassimo, perché bisogna continuare a fare vivere questo museo. Il museo può vivere con iniziative, con manifestazioni, convegni, congressi, mostre.